Io sono Lorenzo Robustelli, c'è scritto all'Amo, insomma sono il direttore di Onews. In questo momento d'apertura purtroppo non ci saranno né Sassoli né Amendola, che non ce l'hanno fatta ad essere qui per motivi diversi purtroppo. Hanno anche tutti e due tentato di mandare un messaggio, ma non ci sono riusciti nel Presidente Sassoli, nel Sottosegretario Amendola. Sono giornate molto convulse, questo l'abbiamo visto, e sappiamo che è così. Accanto a me ho alla mia destra Carlo Corazza, che è il capo dell'ufficio di rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia, e alla sinistra Vito Borrelli, che è il vice capo della rappresentanza della Commissione Europea qui in Italia. Tra l'altro appunto parlando di Commissione Europea, a Bruxelles è appena stato cancellato, doveva essere oggi o domani, l'incontro tra tutti gli ambasciatori dell'Unione Europea che annualmente si svolge a Bruxelles, e quest'anno invece è stato cancellato anche quello. Quindi veramente un momentaccio. Un momentaccio questo, che però non ha impedito all'Unione Europea di andare avanti, di fare anzi dei passi molto importanti, direi. Noi abbiamo avuto proprio da Parlamento e Commissione in questi due anni l'esempio di una forte volontà di continuare a lavorare, di andare avanti, di non farsi prendere prigionieri da questo virus. Dopo i primi momenti di sbandamento che ci sono stati un po' per tutti, il Parlamento ha iniziato quasi subito, insomma ha ricominciato a lavorare con sistemi a distanza, in presenza, ha riaperto ai giornalisti, quindi direi che il Parlamento più o meno è riuscito a lavorare, ha una ottima produttività nonostante tutto. La Commissione, sono una serie di uffici diversi dal Parlamento, ma anche la Commissione ha riaperto le porte ai giornalisti appena potuto, ai primi tempi abbiamo avuto soltanto rapporti a distanza, attraverso video, poi si è riaperta la sala stampa, insomma a Bruxelles abbiamo continuato a lavorare quasi come se non fosse successo niente. Io non voglio rubare spazio ai nostri due primi relatori che inizieranno, faranno un loro intervento, poi ci sarà tempo di fargli un paio di domande prima che vadano via. Ringrazio i ragazzi del liceo Giulio Cesare, il terrorizzato di sbagliare il liceo, e quindi da programma il primo a parlare è Vito, e c'è scritto qua. Di solito è... Ah, alfabetico, allora il primo è Carlo. Allora il primo è Carlo. Per l'importanza, per l'importanza dell'escrizione. Per il protocollo. Allora, dichiariamo aperta questa ottava edizione, in cui appunto, per fortuna nostra, ma purtroppo il momento facale sarà la presenza della commissaria alla salute, Chiria Chides, che è la persona, diciamo, di maggiore attrattività in questo momento a Bruxelles, dopo la Presidente della Commissione, che sarà con noi collegata in diretta oggi pomeriggio. Prego Carlo. Prima di tutto, buongiorno ragazzi, grazie per essere qui. Mi fa molto piacere avere un dialogo in presenza, perché siamo abituati ormai agli eventi virtuali, devo dire, è molto più piacevole parlare avendo delle persone fisiche davanti, in particolare se sono giovani. Grazie mille a Lorenzo per questo invito, grazie per aver scelto la sede istituzionale di Parlamento e Commissione per organizzare questo tuo evento annuale, che è molto importante, quest'anno in particolare, perché è molto centrato sui cambiamenti, sui cambiamenti che sono necessari per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Noi abbiamo dato un sostegno convinto a questa discussione, perché oggi, come mai, abbiamo bisogno della partecipazione di tutti e delle idee di tutti per portare avanti questo processo di cambiamento. Noi abbiamo davanti la necessità di uscire il più rapidamente possibile da questa crisi creata dalla pandemia, la pandemia non è ancora sconfitta, probabilmente ci dovremo convivere, speriamo in una forma sempre più attenuata, ma in parallelo abbiamo la sfida di rilanciare l'economia e di rafforzare la competitività europea. La seconda grande sfida sono tutte quelle trasformazioni profonde necessarie per affrontare appunto la sfida del clima e della trasformazione digitale. La terza sfida, quella sicuramente più complicata, è difendere la nostra democrazia liberale, i nostri valori e cercare di difenderla in un mondo globale sempre più dominato, purtroppo non solo da potenze democratiche, ma anche da regimi autoritari, perché insomma sicuramente la Cina e la Russia non sono modelli di democrazia liberale. Ed è evidente a tutti che oggi l'Unione Europea, malgrado il processo di cambiamento iniziato, non è attrezzata per vincere tutte e tre queste sfide, quindi non è sufficientemente forte, non è sufficientemente democratica e non ha quella efficacia, soprattutto come player globale, che i cittadini più o meno istintivamente chiedono. Noi abbiamo visto organizzando i panel dei cittadini nel quadro della conferenza sul futuro dell'Europa, sono cittadini in qualche modo sorteggiati, tenendo conto del bilanciamento di genere, della provenienza geografica, sociale e via dicendo. Nessuno dice io non voglio un'Unione Europea, tutti dicono io vorrei un'Unione Europea che mi difendesse di più, contasse di più, mi desse più senso di protezione, mi lasciasse meno frustrato come spettatore che vedo quello che succede magari in Siria, in Afghanistan, a Taiwan o in Libia e vedo sempre che l'Unione Europea ha un ruolo di spettatore. Allora diceva bene Lorenzo, il processo di cambiamento è già cominciato, noi prima del marzo 2020 c'erano delle cose che non erano neppure immaginabili, io mi ricordo quando ero portavoce del Vice Presidente della Commissione Europea con la Commissione Barroso, se pronunciavamo la parola eurobonda arrivavano subito il gabinetto del Presidente dopo previa chiamata del Ministro delle Finanze tedesco e della stessa Cancelliera a dire voi avete bestemmiato in Chiesa la parola eurobonda ma neppure pronunciata. Invece abbiamo visto che anche grazie al ruolo giocato dal Parlamento con due risoluzioni, aprile e maggio 2020, abbiamo il recovery bond, abbiamo un piano di ripartenza basato su un debito europeo, un debito tra l'altro basato su risorse proprie, quindi per la prima volta il Parlamento ha vinto la sua battaglia per avere un embrione di unione fiscale delle tasse europee e chiaramente quindi questo piano deve guardare le nuove generazioni, quindi non soltanto c'è un debito europeo, non soltanto abbiamo le risorse proprie, ma abbiamo anche una strategia a lungo termine che guarda ai giovani, alla trasformazione digitale, al clima, al rafforzamento della competitività e aggiungo io alla convergenza dei livelli di competitività tra stati membri, quindi un embrione di unione fiscale ma anche un embrione di governance economica. Molti non l'hanno tentato, ma SURE è la nuova linea da 200 miliardi della BEI e ci sono grazie alle garanzie dei debiti nazionali, il 25% di queste linee a interessi vicino allo zero è garantito dai bilanci nazionali e questo significa mutualizzazione del debito, altra parola impronunciabile fino a marzo del 2020. Per gli addetti ai lavori, il fatto che la BCE abbia comprato molti più titoli in proporzione italiani, greci o spagnoli rispetto a quelli tedeschi, olandesi o finlandesi è una rivoluzione, nel senso che uscire dal capital key, dalla proporzione tra partecipazione capitale e acquisto di titoli, è qualcosa che neanche Draghi aveva osato fare, invece la Lagarde, ovviamente sulla spinta della crisi, l'ha fatto. Ecco, tutte queste cose più o meno tecniche rappresentano dei cambiamenti veri, profondi, importanti e sono qualcosa che ci fa pensare alla possibilità di avere un tesoro europeo. Prima si parlava del tesoro europeo quasi come una chimera, oggi il dibattito legato alla riforma del patto di stabilità è legato anche alla creazione del tesoro europeo, che cos'è Next Generation se non un embrione anche di tesoro europeo. Quindi, insomma, la sanità, la sanità prima della crisi era una competenza assolutamente sussidiaria, oggi è diventata una delle cose in cui i cittadini apprezzano il più il ruolo dell'Unione. Sicuramente ci sono state incertezze, ritardi all'inizio, ma oggi possiamo dire con fierezza che siamo il continente non solo che ha vaccinato più persone, ma che anche ha dato più vaccini al resto del mondo e questa è una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi. Sui cambiamenti climatici, le carte che abbiamo non sono sufficienti, dobbiamo investire, secondo i target che ci siamo dati, 260 miliardi l'anno, per il momento abbiamo un terzo delle risorse europee, che sono tante, perché parliamo di 1800 miliardi, 37% di Next Generation, il 30% di Orizzonto Europa, il 40% dei fondi agricoli e via dicendo, però alla fine arriviamo a una cifra anche con tutto quello che si può fare per attirare investimenti privati, con un'emissione di green bond, eccetera, che è insufficiente rispetto al costo della lotta ai cambiamenti climatici. Lo ricordo, dobbiamo trasformare non solo il nostro modo di produrre e di consumare, ma anche di viaggiare, di costruire edifici e via dicendo, cioè una trasformazione costosissima, tanto indispensabile quanto costosa. Quindi anche per far fronte ai cambiamenti climatici non basta sdoganare il concetto di debito buono, serve ancora una volta un tesoro europeo e un nuovo debito europeo. Chiamiamolo digital bond, green bond, come vogliamo noi, ma abbiamo bisogno ancora di un debito europeo. E quindi il dibattito sarà molto su questo anche per la seconda sfida che è quella della lotta ai cambiamenti climatici. Sulla terza sfida è quella dove siamo ancora meno attrezzati rispetto alle altre. Perché qui, a parte un contrasto alla disinformazione alle fake news e una maggiore regolamentazione dei giganti del web, noi non abbiamo un esercito europeo, non abbiamo una difesa comune, non abbiamo infrastrutture fisiche. Le uniche infrastrutture fisiche vere che abbiamo sono quelle sullo spazio e per fortuna che le abbiamo perché ci dà già una base avere Galileo, avere i Satality Sentinel, avere i super computer che stiamo realizzando, investire di più nell'intelligenza artificiale o nella cibersicurezza chiaramente ci sta dando un appoggio, però finché non abbiamo sviluppato delle navi da guerra comuni, dei droni, dei carri armati che possono lavorare insieme, quindi un'industria molto più integrata di quella che abbiamo oggi della difesa, proprio sul modello dell'industria spaziale che invece si è molto integrata grazie appunto a queste infrastrutture fisiche, noi non abbiamo i mezzi per difenderci, quindi continuiamo a parlare di Taiwan, dell'Afghanistan, della Siria come se riguardassero qualcun altro. Da questo punto di vista però qualcosa sta succedendo, nel senso che intanto il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera è uno strumento vero per spingere la globalizzazione in un certo modo, cioè se noi usiamo, cominciamo a usare una sorta di dazio europeo per obbligare India e Cina a fare i conti con l'uso del carbone, questo è già uno strumento che in qualche modo ci può far prendere più di serve. Ma poi è evidente che dobbiamo accelerare sull'Unione per la Difesa, da questo punto di vista potrà essere molto interessante quello che succederà nella Presidenza francese. L'iniziativa di oggi della Commissione Europea è anche molto interessante, la European Global Gateway che dovrebbe essere un'alternativa da quello che ho letto, non ho visto il documento, alla Via della Seta con 300 miliardi di investimento presi in parte sul fondo InvestEU, in parte dalla Banca Europea di Investimenti, in parte sul bilancio europeo e via dicendo. Insomma, è un piano di investimento per i paesi in via di sviluppo che dovrebbe in qualche modo contenere lo strapotere della Cina in America Latina e in Africa e in qualche modo aiutarci anche a gestire meglio i flussi migratori e anche l'iniziativa sui semiconduttori su cui ancora non si sa moltissimo è una forma di sovranismo europeo, cioè è un modo per dire ok, noi abbiamo sviluppiamo una nostra indipendenza strategica. Quindi, sono tutti i passi nella giusta direzione ma arrivando al punto e alle conclusioni non sono ancora sufficienti. Noi siamo ancora in mezzo a un guado, non abbiamo ancora la forza e io penso che come si legge nella scoliera di questo evento ci sono alcune cose che dobbiamo cambiare rapidamente. Allora, il Presidente Sassoli aprendo la conferenza sul futuro dell'Europa ha detto chiaramente che l'obiettivo non è cambiare a non cambiare i trattati l'obiettivo è dare risposte serie e efficace ai cittadini quindi se per dare risposte serie e efficace ai cittadini nelle cose che ho detto serve cambiare i trattati si cambiano i trattati punto cioè il dovere della politica non è di fare finta la politica è di dare soluzioni vere e allora non è che il trattato può diventare il tabù il totem intoccabile è vero che i trattati purtroppo si devono cambiare l'unanimità però dico io uno può anche farne un altro di trattato perché se a un certo momento non si riesce a avere una governance a 27 e cominciamo a ragionare anche su qualcos'altro cioè non è che possiamo condannare gli europei all'irrilevanza o ancora peggio al rischio di perdere i loro valori fondanti quindi la centralità della persona la sua dignità e la sua libertà perché alcuni stati membri hanno una visione diversa da quello che si pensava avessero quando sono entrati nell'Unione Europea perché apro parentesi la difesa dei valori non riguarda solo i paesi terzi riguarda anche la Polonia e l'Ungheria ad esempio insomma il fatto che noi non possiamo applicare l'articolo 7 perché l'Ungheria e la Polonia si tengono il sacco a vicenda è un problema istituzionale grande come una casa ebbene sta facendo il Parlamento Europeo comunque aprire una procedura di incarenza contro la Commissione per applicare la condizionalità sull'uso dei fondi europei a paesi che non rispettano lo Stato di diritto stiamo parlando di libertà di stampa non discriminazione e via dicendo non stiamo parlando di cose marginali insomma non è il divieto di non usare depuratori o la violazione delle emissioni di macchie quindi chiudo dicendo che questo è un momento storico molto importante in cui noi europei dobbiamo far sentire la nostra voce abbiamo lo strumento della conferenza sul futuro dell'Europa io non credo che il processo si chiuderà con la Presidenta francese penso che le occasioni di dibattito e di farci sentire continueranno comunque ci sono le elezioni europee nel 2024 quindi insomma la dinamica che si è creata con la crisi con la conferenza sul futuro dell'Europa ci deve portare a continuare a mettere pressione sulla classe dirigente europea per ottenere un'Europa davvero capace di tutelarci di proteggerci e di farsi sentire nel mondo grazie mille grazie Carlo ringrazio che hai toccato tutti i punti riguardo la sala vorrei precisare che mi fa piacere essere di nuovo qua perché questa è la sala in cui Eonews fu presentata la prima volta nel primavera del 2012 la prima presentazione di Eonews fu proprio fatta qua con esponenti del Parlamento della Commissione del Governo quindi sono passati tanti anni ed è bello essere di nuovo di nuovo qua e ho dimenticato prima colpevolmente di ringraziare i nostri sponsor che sono Alfa Sigma e Abeditoriale del quale Abeditoriale torneremo a parlare nel pomeriggio perché era un bruno importante del nostro futuro adesso tocca a Vito Borrelli fare il suo saluto grazie Lorenzo buongiorno a tutti e anche per me come rappresentante della Commissione Europea oggi è un piacere essere qui con voi in questa occasione per l'apertura della non so che edizione non ricordo il nome ottava edizione di How Can We Govern Europe un titolo che dice tutto in realtà ed è bello che a questa apertura e immagino anche nella prosecuzione dei lavori siano presenti così tanti giovani presenti fisicamente e questo vorrei dire nonostante qualche defezione è un grande successo perché siamo in grado di vederci di parlarci di guardarci negli occhi magari di non vedere i nostri nasi e le bocche però almeno possiamo comunicare in maniera più 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 concreta e questo dico anche grazie agli sforzi che sono stati fatti in Italia per cercare di convincere il più alto numero di persone possibile a vaccinarsi quindi creare le condizioni perché questi eventi si possano ancora tenere purtroppo sappiamo che in altri paesi dell'Unione la situazione è un po' più grave e anche le misure che si stanno prendendo sono molto più drastiche abbiamo saputo proprio ieri appunto che la Germania ha deciso di andare verso una obbligatorietà dei vaccini come è stato già avanzato dall'Austria una misura che probabilmente poi tra qualche mese seguiranno anche altri paesi probabilmente anche l'Italia è un processo su cui si sta ragionando ed evidentemente la ragione alla base di tutto ciò è che la salute e la sicurezza della società è più importante di quella del singolo alla fin fine è un po' questo il valore del messaggio detto questo ritorno al titolo di questo evento How can we govern Europe e dicevo secondo me è bello che ci siano tanti giovani perché il futuro dell'Europa è nelle mani dei giovani e lo vediamo proprio in particolare come ha già accennato Carlo attraverso questo processo che si chiama conferenza sul futuro dell'Europa che è stato lanciato ormai sette mesi fa nel mese di maggio in occasione proprio col 9 maggio festa dell'Europa e che sta dando l'opportunità a tante persone di esprimersi su quelle che sono le aspettative riguardo alla funzione dell'Europa nel futuro lo stiamo facendo attraverso una piattaforma una piattaforma multilingue sulla quale qualsiasi cittadino ha la possibilità di caricare contenuti e proposte per il futuro in particolare all'interno di eventi che si possono svolgere per categorie di cittadini per gruppi di persone che hanno la possibilità di discutere e di proporre delle misure appunto per migliorare quella che sarà l'Europa del futuro ma oltre alla piattaforma ci sono anche tutta una serie di incontri fisici e virtuali quelli dei panel dei cittadini se ne stanno tenendo in questo periodo di virtuali ma anche in presenza ce ne sarà uno salvo appunto annullamenti ma per il momento è previsto anche in Italia a Firenze presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole dove appunto 80 cittadini di tutti i paesi degli stati membri potranno incontrarsi per discutere materie legate alla democrazia allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali quindi ogni gruppo adesso non sto a citare ogni singolo gruppo qual è il titolo del proprio tema ma ogni gruppo si occupa di un tema particolare e poi tutte queste proposte vengono raccolte e inserite in questa grande base di dati che contiene poi le proposte dell'Europa per il futuro quindi come governeremo l'Europa nel futuro è una bella domanda anche perché ci siamo accorti tutti che l'Europa ormai non è più un attore terzo è un attore fondamentale nelle politiche nazionali forse fino a 15-20 anni fa l'Europa appariva ogni tanto nei telegiornali con una visione che veniva anche percepita come lontana dalle nostre vite quotidiane a Bruxelles si dice si chiede ce lo chiede ormai ogni decisione ogni iniziativa che viene presa a livello nazionale è comunque in qualche modo coordinata a livello di Europa di Unione Europea l'abbiamo visto evidentemente nel caso della pandemia dove l'Unione Europea ha dimostrato in maniera proprio visibile l'importanza di unire le forze abbiamo visto che grazie a un molto criticato inizialmente processo di negoziazione sui vaccini che poi però si è rivelato fondamentale perché siamo stati come ricordava già Carlo il continente che è riuscito a vaccinare più persone e che soprattutto ha dato molti vaccini anche agli altri continenti che magari hanno avuto più difficoltà ad ottenerli ma attraverso questo sistema di coordinamento di centralizzazione della diciamo orchestrazione dell'attività siamo riusciti ad ottenere dei risultati molto buoni ma ovviamente questo della pandemia è solo uno degli esempi abbiamo parlato abbiamo sentito già prima del Green Deal parliamo del digitale della rivoluzione digitale parliamo del pilastro sociale e questo è molto importante perché appunto anche qui l'Europa ha un ruolo di coordinamento non impone per esempio un salario minimo per tutti i paesi perché sappiamo che ci sono paesi che sono già molto avanzati in questo settore e non vogliono essere allineati verso il basso ma sensibilizza tutti i paesi sul fatto che c'è bisogno di dare un sostegno alle categorie meno favorite quindi pilastro sociale e ruolo dell'Europa nel mondo perché anche qui effettivamente l'Europa si ritrova ad avere un ruolo alle volte un po' ambiguo perché purtroppo su certe materie e tra queste le relazioni con i terzi paesi l'Europa è limitata dal fatto che ogni stato membro ha poi una politica e un atteggiamento diverso nei confronti dei paesi terzi da cui è molto difficile trovare un'unanimità su temi che possono essere molto divisivi e di conseguenza alcuni passi falsi bisogna riconoscere che l'Europa più che falsi diciamo mancanza di presenza di un'Unione Europea in situazioni come per esempio la recente crisi afghana dove l'Europa ha un po' tardato a dare una sua una sua posizione chiara gli singoli stati membri hanno agito in maniera autonoma l'Italia è stata superattiva anche per far rientrare molti afghani che avevano collaborato con lo stato italiano con l'Europa nelle ambasciate o in altri servizi in progetti finanziati dall'Europa però come Unione Europea abbiamo stentiamo ancora ad avere una posizione comune una strategia comune e da qui l'importanza proprio dell'iniziativa che ricordava Carlo prima di oggi appunto il Global Gateway che in qualche modo cerca di recuperare un po' di terreno perso nel corso degli ultimi anni in cui invece grandi giganti internazionali come la Cina hanno lanciato la Belt and Road Initiative che ormai va avanti già da oltre dieci anni quindi abbiamo un ritardo abbastanza grande accumulato nei confronti della Cina per esempio Belt and Road Initiative che è nata proprio come una volontà di far rilanciare un paese che per molti anni era rimasto un po' nell'oscurità e che ha voluto attraverso tutta una serie di iniziative perché Belt and Road Initiative include non solo progetti di infrastrutture energetici e così via ma c'è anche una forte spinta di diplomazia culturale di diplomazia dello sport di diplomazia della lingua cioè attraverso questa grande iniziativa la Cina ha iniziato a dare l'esempio di come si può in qualche modo facilitare una allinearsi una sommarsi di un soft power all'hard power che invece è quello che è stato per la maggior parte dei tempi applicato da parte delle grandi potenze a questo ha risposto tra l'altro anche gli Stati Uniti nel corso dell'ultimo anno anche Biden ha lanciato questa nuova iniziativa americana che è il Build Back Better World che è proprio la risposta americana al Belt and Road Initiative e adesso anche l'Europa si rende conto dell'importanza di queste iniziative che vogliono in qualche modo far vedere rendere più visibile anche il ruolo dell'Europa nel mondo attraverso tutta una serie di progetti che possono essere nel settore delle telecomunicazioni del green energy e ancora delle infrastrutture e della salute per quanto riguarda l'energia è proprio questo un tema scottante di questi giorni non possiamo non aver notato quanto l'aumento delle bollette l'aumento dell'inflazione sia in qualche modo correlato a un aumento del prezzo delle fonti energetiche e in questo senso l'Europa è consapevole di quanto sia importante dotarsi di nuove fonti di energie rinnovabili che però non possono essere messe a disposizione nel giro di pochi mesi o di pochi anni è un lungo processo ed è da qui che nasce questa anche necessità di trovare delle fonti transitorie che possano supplire alle grandi esigenze dell'Europa nei prossimi dieci anni almeno e da qui nasce la famosa tassonomia avrete sentito parlare di questa parola che a Bruxelles circola ormai in maniera abbastanza pressante da un po' di mesi che dovrebbe essere la lista delle fonti di energia che possono essere utilizzate che possono essere considerate accettabili per un periodo transitorio da qui nasce tutto il dibattito sul nucleare per esempio la Francia vorrebbe che il nucleare fosse inserito nella tassonomia altri paesi come la Germania sono molto contrari in Italia ci sono stati dei referendum contro il nucleare e di conseguenza anche su questo tema per esempio c'è molta ancora tensione e una divisione che appunto l'Europa dovrà cercare in qualche modo di sintetizzare in maniera efficace c'è la questione del gas sappiamo anche guardo sempre il nostro collega dell'ambasciata tedesca perché effettivamente anche su questo c'è un tema abbastanza scottante che è quello del pipeline del Nord Stream 2 appunto il gas che ci giunge attraverso il Mar Baltico della Russia e che diventa fondamentale in questo momento per poter supplire a questi grandi bisogni di energie che esistono in tutta l'Europa di conseguenza anche qui però evidentemente questo comporta una questione di accordi e di negoziati con dei paesi che magari in alcuni casi non rispettano quelli che noi consideriamo i criteri fondamentali di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali qui parlo della Russia in questo caso ma ovviamente possiamo applicare mutatis mutandis alla Cina o ad altri partner internazionali quindi un delicato equilibrio da cercare di trovare un compito arduo senz'altro che l'Europa si trova a dover affrontare giorno per giorno per trovare un po' la quadra fra tutte quelle che sono le diverse sollecitazioni quindi in questo quadro e qui concludo alla luce di tutte queste sfide che si pongono di fronte al nostro continente il contributo di ognuno di noi è fondamentale perché alla fine tutto questo deve anche equilibrarsi con un'applicazione di quelli che sono i principi fondanti dell'Unione quindi il rispetto della libertà di espressione di stampa di identità rispetto delle minoranze rispetto di tutte le linee di pensiero e di conseguenza in questo delicato esercizio di equilibrismo è importantissimo il contributo che la cittadinanza può dare dimostrando una presa di coscienza dell'importanza di far parte di questo grande processo di creazione di una governance che possa essere più efficace nel futuro e quindi credo che un evento come quello di oggi sia davvero fondamentale per raccogliere quelle che sono le aspettative le proposte le idee che vengono proprio dai giovani in particolare ma da tutti coloro che vogliono contribuire a un'Europa migliore grazie grazie Vito siamo perfettamente nei tempi per passare al panel successivo prima di farlo volevo ringraziare i nostri media partner che sono Rai News 24 Radio Rai Radio 1 Rai Radio Radicale tra l'altro partner con i quali abbiamo un rapporto da anni e anni Radio Radicale sta trasmettendo in diretta sul suo sito il nostro incontro quindi nel salutare chi ci segue anche online ringrazio Carlo ringrazio Vito e direi di prepararci per il prossimo panel che devono essere mi hanno spiegato che dobbiamo essere molto rigidi sui tempi sia sull'inizio sia sulla fine per una serie di collegamenti regie interpretazioni interpretariati e così via quindi grazie Vito grazie Carlo buona giornata arrivederci un minuto per eh facciamo un minuto di pausa che è stato grazie a tutti grazie a tutti iniziamo questo questo nostro secondo panel che mi vede seduto al centro che non è mia abitudine ma purtroppo il centro è il posto più scomodo del tavolo perché c'è un mobiletto qua sotto che non si vede e che quindi uno non sa dove mettere le gambe e mi ci sono messo io allora questo nostro primo panel diciamo dopo i saluti di apertura lui è del futuro una marcia compatta o un percorso a diverse velocità insomma qual è il cambiamento che sta che sta facendo l'Europa come come si svolgerà e cosa è successo fino ad oggi e cosa possiamo aspettarci domani Carlo Corazza ha accennato al fatto che la conferenza sul futuro dell'Europa probabilmente non finirà a maggio ma probabilmente la conferenza sì ma questo processo di coinvolgimento dei cittadini probabilmente durerà più a lungo ci sono grandi novità che noi per fortuna possiamo raccontarvi con i nostri ospiti che sono cominciamo dalla mia destra che è Nicolas Wagner capo dell'ufficio politico dell'ambasciata tedesca in Italia Germania ovviamente sempre stata appunto centrale dell'Unione Europea uno dei fondatori ma Germania che dopo 16 anni cambia cancelliere passa da una cancelliera a un cancelliere soprattutto di un altro partito e quindi spero che Nicolas ci possa un po' spiegare questo patto di 177 pagine quant'è perché l'ho sentito contare in maniera diversa ma insomma è un patto corposo e dettagliato sull'Unione Europea e dopo dopo di lui vorrei che parlasse Luca Visentini che è il segretario generale dell'ETUC cioè dell'Organizzazione Europea dei Sindacati che è collegato con noi con noi da remoto e che avrà molto da dirci perché questi due anni hanno significato molto anche per la per le condizioni dei lavoratori molti hanno perso lavoro molti dovranno cambiare lavoro la Commissione Europea come è stato accennato ha cercato di aiutare questa transizione con Sur vediamo se sentiamo Visentini se ci dice cosa ne pensa se ha funzionato o no questo mezzo straordinario lanciato dalla Commissione torniamo qua con Nicoletta Pirozzi poi che è responsabile del programma per l'Unione Europea dell'Istituto per gli Affari Internazionali con la quale in particolare ho il piacere di lavorare da alcuni anni su un programma della Commissione Europea che si chiama EUID che cerca proprio di vedere come potrà funzionare al di là delle scelte ma di come potrà funzionare l'Unione Europea nei prossimi anni ed è un programma lanciato sono 14 istituti di ricerca più noi che facciamo la parte soltanto di comunicazione e che però Nicoletta Cordina e io l'ho vista all'opera sembra una signora gentile ma tiene in fila 15 istituti con professoroni con ricercatori bizzosi e riesce a fare il lavoro sul lavoro molto bene soprattutto ha una visione molto chiara di come potrà svilupparsi a chiudere ci sarà Tiziana Beghin che è la capodelegazione del Movimento 5 Stelle Parlamento Europeo anche lei in collegamento Movimento 5 Stelle che ha avuto diciamo una storia importante come movimento nuovo non un partito che è arrivato al Parlamento Europeo che ha certamente partecipato a questa spinta verso un maggior coinvolgimento dei cittadini nelle scelte sul futuro dell'Europa con questa conferenza sul futuro dell'Europa e diciamo credo che sia nelle corde proprio del Movimento 5 Stelle poi Beghin ci spiegherà meglio e quindi questo sarà il nostro il giro di tavolo sarà questo vorrei appunto che il primo giro i nostri ospiti facessero un'analisi dal loro punto di vista di cosa è successo in questi due anni quasi due anni e poi farei un secondo giro invece su come pensano che potrà svilupparsi l'Europa in questi due anni vi ripeto che noi alle 10.45 dobbiamo smettere dobbiamo chiudere perché c'è un quarto d'ora di coffee break poi esigenze tecniche alle 11 deve iniziare il panel dopo quindi prego tutti quanti di stare entro 5-6 minuti massimo in maniera di poter fare questi due giri allora iniziamo dal nostro ospite straniero di Gras Wagner prego salve buongiorno ringrazio molto Lorenzo Rubustelli e anche natamente gli altri panelisti Nicoletta Pirozzi e Tiziana Beghin e anche Luca Vesentini ho l'impressione che siamo di casa qua come ambasciato di disc perché siamo tutti fratelli e sorelle europei in questo senso purtroppo l'ambasciatore Elbring non è potuto venire stamattina a causa di un appuntamento imprevisto ma cercherò di essere un sostituto assai diciamo professionale e convincente sono i Kras Wagner capo ufficio politico dell'ambasciata di Disca cerco di essere molto sintetico ma volevo anche salutare i ragazzi e le ragazze del liceo Giulio Cesare di Roma qui presenti che cosa è successo negli ultimi due anni penso che siamo in una nuova fase in Europa abbiamo visto i primi passi per la salute a causa della pandemia personalmente ho anche assistito all'organizzazione del ponte aereo tra Bergamo e varie città di Disca nel marzo e aprile del 2020 per portare pazienti gravemente malati italiani per le cure in Germania e sono molto grato del fatto che in questo momento molto difficile in Germania ci sono anche delle regioni in Italia che hanno già dato disponibilità per raccogliere se necessario pazienti gravemente malati di Covid venendo dalla Germania abbiamo anche visto un passo storico in Europa che si chiama Next Generation EU e condivido pienamente quello che hanno già detto prima di me Vito Borelli e anche Carlo Corazza che Next Generation EU insieme agli altri strumenti come SURE hanno garantito la tenuta del mercato unico in Europa che è importantissimo e vitale sia per Germania che per l'Italia ma va oltre la dimensione penso economico fiscale perché è proprio un segnale di una solidarietà di tutti verso tutti non è che solo l'Italia sta approfittando delle risorse messe a disposizione anche la stessa Germania ne sta approfittando e questo ci indica due cose che sono anche penso state al centro della presidenza tedesca del Consiglio EU nella seconda parte del 2020 che vogliamo e dobbiamo avere diciamo sostanzialmente due pilastri in Europa il primo pilastro che si chiama un'Europa forte all'interno cioè un'Europa coesa forte dei suoi valori dove c'è ripeto una solidarietà di tutti verso tutti e in secondo luogo vista la situazione globale che sta cambiando radicalmente con l'ascesa anche di sistemi autocratici che dobbiamo avere un'Europa anche più forte verso l'esterno un'Europa che sa quali sono i suoi interessi che sa quali sono i suoi valori e chi li sa anche difendere dunque siamo in una fase nuova in Europa ma siamo anche in una fase nuova in Germania si è detto prima che dopo 16 anni con la cancelliera Angela Merkel si sta per formare un nuovo governo in Germania una cosiddetta coalizione semaforo tra verdi liberali e socialdemocratici con un cancelliere che si chiamerà Olaf Scholz giuramento molto probabilmente sarà intorno il 6 di dicembre e Lorenzo Rubostelli ha già menzionato il nuovo trattato di coalizione di questa coalizione semaforo che ha 176 pagine e descrive in maniera molto dettagliata che cosa vogliamo fare in Germania ma anche cosa vogliamo fare in Europa e mi fermerei su questo aspetto perché in questo senso questo trattato di coalizione è molto ambizioso direi perché propone come concetto uno stato federale europeo come esito di consultazioni durante la conferenza sul futuro dell'Unione Europea che poi alla fine possono avere ripeto come come diciamo risultato finale uno sviluppo ulteriore verso uno stato federale europeo che è organizzato in maniera decentrale però che comunque potrebbe essere uno stato e questo avrebbe naturalmente conseguenze notevoli su tutti gli aspetti sia gli obiettivi che gli strumenti in Europa forse un ultimo aspetto visto che diciamo il titolo di questo panel è anche quello di una marcia compatta o un percorso a diverse velocità in Europa il trattato di coalizione parla del metodo comunitario cioè di avanzare in maniera compatta a 27 però non esclude che si possa anche andare avanti dove è necessario in un gruppo di singoli stati membri per arrivare ulteriori passi di integrazione dunque secondo me un compegno un trattato molto ambizioso a livello europeo e sottolinea un po' la vocazione molto pro-europeista di questa nuova coalizione che sta per formarsi in Germania e non potrebbe essere diversamente perché le sfide sono tante la Germania essendo geograficamente al cuore dell'Europa è uno dei maggiori azionisti di questo progetto europeo dunque noi per forza di cose dobbiamo essere europeisti è proprio una ragione di Stato in Germania vista la nostra posizione geografica la nostra storia ma anche i nostri interessi che abbiamo come nazione mi fermo qui e lasciare la parola a Lorenzo grazie 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 ci hai tranquillizzato sul spirito europeista del prossimo governo non avevamo dubbi diciamo che da parte della Germania ci fosse poi una continuità adesso andiamo da remoto Luca Vicentini che appunto colpa della pandemia non può essere qui credo non lo vedo neanche però dentro il mio schermo eccolo qua ci senti? noi però non sentiamo lui ah mi dispiace eccolo eccolo si vi sentite adesso? ok perfetto allora dal punto di vista dei lavoratori come sono stati questi due anni dunque grazie innanzitutto per l'invito credo che sia una veramente importante occasione di confronto e di discussione dunque l'Unione Europea è stata capace di fare cose assolutamente insospettabili e imprevedibili per far fronte alla pandemia questioni che sono state discusse per anni senza trovare una soluzione come gli eurobond o strategie diciamo comuni in materia di salute o di protezione dei posti di lavoro e delle attività economiche sono poi state realizzate con degli accordi in pochi mesi quindi questo è sicuramente un risultato straordinario di una tragedia che però ha avuto anche delle conseguenze positive e ha creato delle opportunità ci sono quattro aree dal nostro punto di vista dove l'Unione Europea in effetti ha fatto dei grandissimi passi in avanti il primo è la salute e le modalità che sono state utilizzate per fronteggiare dell'emergenza sappiamo tutti che sono stati spesi miliardi e miliardi di euro per salvare posti di lavoro 40 milioni di lavoratori e lavoratrici in Europa hanno usufruito di schemi di protezione dell'occupazione collegati a Shure ma anche le imprese sono state fortemente sostenute per non parlare poi dei servizi pubblici e in particolare dei servizi sanitari le misure di emergenza sono state decise come dicevo in poche settimane hanno avuto un impatto molto importante ma poi c'è stata questa è la seconda ma forse più importante iniziativa che l'Unione Europea è riuscita a mettere in campo che è stata già menzionata che è Next Generation EU adesso con i vari piani nazionali di recovery e resilienza questa è veramente un'iniziativa straordinaria non soltanto per la quantità di denaro che è stata messa in campo ma soprattutto per come questa iniziativa è stata finanziata attraverso bond europei che hanno creato di fatto un debito europeo quindi alleggerendo il carico sui singoli stati una cosa che sarebbe stata inimmaginata vi ricordiamo tutti nel momento in cui si è fronteggiata la crisi economica e finanziaria con i problemi della Grecia e degli altri paesi le soluzioni trovate allora soluzioni di austerità di tagli erano andate in una direzione completamente diversa il terzo grande elemento di innovazione che peraltro era stato messo in campo già prima della pandemia è il Green Deal o European Green Deal con tutti gli elementi di implementazione che poi sono stati sviluppati e questa è ovviamente una grandissima iniziativa che pone l'Europa alla testa diciamo del movimento globale per salvare il pianeta e consentirci di vivere delle vite più sostenibili in un modello economico più sostenibile e last but not least come si dice in inglese non da ultimo c'è ovviamente tutta la questione sociale che è stata affrontata effettivamente con ambizione che era insospettabile nel passato con la promulgazione del pilastro europeo dei diritti sociali quattro anni fa ma soprattutto con il vertice di porto che si è tenuto qualche mese fa dove c'è stato diciamo l'approvazione del piano d'azione per l'implementazione dei venti principi che sono contenuti nel pilastro sociale quindi almeno queste quattro aree devono essere citate per dire che effettivamente stiamo vedendo un'ambizione una volontà di integrazione e di solidarietà che non potevamo sicuramente aspettarci prima che la pandemia esplodesse ora detto questo ci sono però ovviamente anche dei limiti che devono essere colmati dei limiti che riguardano un po' trasversalmente tutte queste iniziative perché c'è la necessità di continuare a implementare alcune iniziative di emergenza perché la pandemia purtroppo non ha finito di colpire i vari paesi lo si sta vedendo con l'ondata che stiamo verificando in questi giorni ma soprattutto è indispensabile che la grande quantità di denaro che è stata messa a disposizione con Next Generation EU venga spesa bene con degli progetti strategici con la capacità di mettere insieme progetti a livello europeo e di controllare che effettivamente queste risorse vadano ad investimenti non vengano disperse investimenti che possano effettivamente realizzare un modello economico diverso più sostenibile ambientalmente ma anche dal punto di vista sociale questi elementi sono al momento semplici raccomandazioni diciamo nei regolamenti che la Commissione Europea ha emanato c'è bisogno di renderli più vincolanti dal nostro punto di vista perché non possiamo più accettare questa volta che si fronteggi diciamo una ripresa economica senza creazione di posti di lavoro di qualità questo purtroppo è accaduto dopo la crisi economica e finanziaria c'è stata una ripresa economica ma i posti di lavoro di qualità non sono cresciuti la disoccupazione non è diminuita significativamente soprattutto si sono fatte crescere sempre di più le diseguaglianze e gli elementi di esclusione sociale sul Green Deal sul Fit for 50 Pai il nuovo pacchetto che è stato recentemente presentato gli obiettivi sono tutti quanti assolutamente condivisibili il problema è che non ci sono ancora per quanto risorse siano state stanziate degli strumenti di governance che permettano effettivamente di garantire che come tutti dicono nessuno sia lasciato indietro se non si riesce a trovare delle modalità per garantire che gli investimenti vadano nelle stesse comunità e territori dove i posti di lavoro si distruggeranno inevitabilmente accompagnando quindi le persone verso nuove opportunità di occupazione di qualità nelle stesse comunità dove loro oggi lavorano e vivono veramente noi non riusciremo effettivamente a realizzare quella che noi chiamiamo una transizione giusta e oggi non abbiamo ancora tutti gli strumenti necessari per raggiungere questo obiettivo ne stiamo discutendo con la Commissione Europea speriamo che ci sia la capacità diciamo di mettere in campo nuovi strumenti di governance e quando poi si parla di governance non possiamo dimenticare che la Commissione Europea il commissario Paolo Gentiloni ha lanciato poche settimane fa una consultazione pubblica che si concluderà entro la fine dell'anno per riformare le nostre regole fiscali e della governance queste regole quando si si revocherà la cosiddetta General Escape Clause che ha sospeso di fatto il patto di stabilità il semestre fra un anno circa non possiamo ritornare alle vecchie regole dell'austerità ai limiti ciechi diciamo che facevano parte dei vecchi Six Pact Two Pact Fiscal Compact e così via dobbiamo ripensare completamente il nostro modello economico e quindi è fondamentale che tutti noi tutti i cittadini le organizzazioni della società civile la politica che noi partecipiamo attivamente in questa consultazione per cambiare le regole e in questo ambito è fondamentale che facciamo dei passi ulteriori anche in materia sociale è importante avere un piano d'azione non sappiamo ancora cosa i singoli stati faranno per realizzarlo e soprattutto è importante che gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali diventino parte integrante della nostra governance economica non possiamo più attendere per integrare la dimensione economica quella ambientale ovviamente e quella sociale e poi ci sono altre sfide sulle quali ancora si sta discutendo ma che non sono ancora diciamo arrivate ad una conclusione concreta che sono la difesa comune l'autonomia strategica quando si parla di industria o di energia di approvvigionamento energetico e ovviamente il tema delle migrazioni che sta ritornando di attualità e sul quale purtroppo devo dire l'Unione Europea non brilla per soluzioni avanzate come procedere per affrontare tutto questo dobbiamo costruire un'Europa a più velocità io personalmente non ne sono convinto anche perché quali sono le più velocità abbiamo come dire diverse divisioni a seconda degli argomenti quando si parla di economia ci sono i frugali ma quando si parla di ambiente o di diritti umani ci sono i paesi dell'est quindi rischiamo di avere diciamo maggioranze a geometria variabile che non consentirebbero secondo noi una vera stabilizzazione di un modello a più velocità al contrario ci sono dei temi fondamentali di riforma dei trattati che devono essere discussi nella conferenza sul futuro dell'Europa e che devono essere poi realizzati concretamente tre su tutti introdurre veramente per le questioni fondamentali il principio del voto a maggioranza qualificata superando i veti che sono collegati all'unanimità questo è il vero elemento che potrebbe fare la differenza dal punto di vista del processo decisionale politico dell'Unione Europea ma anche dare al Parlamento Europeo il diritto di avere l'iniziativa legislativa che cosa che oggi non esiste e questo è uno scempio dal punto di vista istituzionale perché il Parlamento Europeo è l'unico organo istituzionale dell'Unione Europea che è eletto direttamente dai cittadini deve avere il diritto di iniziativa legislativa e non ultimo per noi molto importante abbiamo bisogno che i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e anche quello che noi chiamiamo un protocollo di progresso sociale che metta i diritti sociali allo stesso livello delle libertà economiche diventino parte integrale dei trattati fino a poco fa tutto questo sarebbe stato impossibile tutti dicevano non sognatevi che alla fine della conferenza sul futuro dell'Europa si possano riformare i trattati ma devo dire che l'accordo che è alla base della coalizione del nuovo governo tedesco invece offre delle grandi possibilità e probabilmente ci sono anche altri paesi la Francia l'Italia e altri che potrebbero unirsi diciamo a un drappello di paesi che potrebbero spingere effettivamente per una seria riforma dei trattati l'accordo tedesco addirittura cita la possibilità di creare una convenzione per la riforma dei trattati era fallita tanti anni fa speriamo che invece questa volta si possa arrivare ad un successo e che effettivamente potrebbe disegnare un futuro migliore per l'Unione Europea ti ringrazio grazie Gentile e poi passeremo approfondiremo dopo e ora la parola passa a Nicoletta Pirozzi che vorrei che ci spiegasse un po' appunto se dove è arrivata l'Europa adesso ce lo potevano aspettare due anni fa anche con i sistemi di funzionamento che ha grazie mille Lorenzo saluto tutti in particolare le ragazze e i ragazzi del liceo grazie dell'invito e come hai detto tu noi ormai siamo impegnati da ormai tre anni in questa riflessione collettiva sul futuro dell'Europa che riunisce 15 istituti di ricerca ed accademie in Europa e fuori dall'Europa proprio con l'obiettivo di capire come disegnare l'Europa del futuro e riflettere sui rischi e sulle opportunità delle diverse configurazioni quindi un'Europa 27 in cui tutti procedono uniti allo stesso ritmo oppure anche un'Europa più differenziata che tra l'altro come vedremo è già una realtà quindi capire se questa può essere la strada per un'Europa più efficace soprattutto che sappia rispondere alle tante crisi che ci troviamo di fronte e che soprattutto negli ultimi due anni hanno messo a dura prova la tenuta del progetto europeo ovviamente quando abbiamo cominciato partivamo da premesse molto diverse perché era prima del covid e quindi prima anche di tutte le forti innovazioni che l'Unione Europea è stata in grado di portare avanti in questi anni noi partiamo comunque da una situazione in cui l'Europa è già differenziata al suo interno in molti aspetti abbiamo l'Unione Economica e Monetaria e l'Eurozona che coinvolge soltanto un numero di stati membri abbiamo l'area Schengen che riunisce un numero di stati membri insieme a stati non membri dell'Unione Europea abbiamo la possibilità sulla base del trattato dell'Unione Europea di portare avanti cooperazioni rafforzate tra gli stati membri alcuni stati membri invece hanno opt out cioè delle clausole di eccezione rispetto a politiche comuni quindi è il caso ad esempio della Danimarca quando parliamo dell'Eurozona oppure quando parliamo di Schengen e poi ad esempio abbiamo tutti i paesi di nuova annessione che per un certo periodo di tempo godono di alcune deroghe rispetto al cosiddetta Kiko Muno-Turchel al complesso delle norme dell'Unione Europea quindi in realtà noi siamo già di fronte ad un'Europa fortemente differenziata alcuni vedono in una ulteriore differenziazione un veleno per l'Unione Europea perché porterebbe di fatto ad abbandonare l'obiettivo federalista di un'Europa integrata a 27 e in qualche modo insomma metterebbe un po' a rischio le basi stesse su cui si fonda il progetto europeo altri invece lo vedono come uno strumento molto utile per portare avanti alcune politiche dell'Unione soprattutto quando ci troviamo di fronte a sfide così impegnative quali ad esempio i conflitti che abbiamo nel vicinato dalla Libia all'Ucraina oppure anche le stesse emergenze pandemiche che abbiamo dovuto vivere in questi anni dal nostro punto di vista non è nell'uno o nell'altro cioè la differenziazione all'interno dell'Unione Europea la flessibilità che si offre agli Stati membri può essere un utile strumento per ricomporre le divergenze ad esempio in quei settori in cui l'unanimità e quindi andare avanti a 27 non è raggiungibile non è percorribile perché ci sono troppe differenze tra gli Stati membri oppure non è desiderabile perché andare avanti a 27 imporrebbe di raggiungere dei risultati non ottimali rispetto a quelli che potremmo raggiungere con un gruppo ristretto di Stati membri e questo è già successo in passato ad esempio nel caso dell'Unione bancaria noi abbiamo avuto delle regole di fiscalità nuove tra un gruppo ristretto di Stati membri e questo non ha minacciato la tenuta del mercato interno ma anzi ha permesso una maggiore integrazione tant'è vero che adesso anche Stati che non facevano inizialmente parte di questo progetto hanno chiesto di aderire oppure prendiamo il caso della politica estera quante volte l'Unione Europea è stata paralizzata dalla regola dell'unanimità perché gli Stati membri non riuscivano a decidere come intervenire e quali interessi privilegiare rispetto all'esterno ecco in alcuni casi abbiamo visto l'iniziativa di un gruppo ristretto di Stati membri come nel caso dell'Ucraina ad esempio con Francia e Germania oppure il caso dei negoziati per il nucleare iraniano con la Francia la Germania e l'allora Gran Bretagna in quel caso un gruppo di paesi membri dell'Unione Europea si sono messi alla testa di un'iniziativa europea coinvolgendo anche le istituzioni e portando avanti delle azioni più o meno efficaci di risposta europea alle crisi in corso è chiaro ovviamente che ci sono anche dei rischi connessi alla proliferazione di questa differenziazione interna all'Unione Europea ovviamente ad esempio la Brexit rappresenta forse l'esempio più concreto e più lampante di come la differenziazione la flessibilità può anche incastrarsi poi con dinamiche di disintegrazione tant'è vero che noi nel caso della Brexit dal punto di vista accademico parliamo proprio di disintegrazione differenziata quindi in questo momento noi ci troviamo in una situazione completamente nuova in cui un ex Stato membro ha deciso di uscire non ha intenzione di aderire nel prossimo futuro all'Unione Europea e quindi bisogna diciamo trovare una cifra per trovare ecco la flessibilità giusta e avere dei rapporti costruttivi per il futuro e questo poi avrà tutta una serie di ripercussioni sia all'interno dell'Unione Europea perché ad esempio altri Stati membri potrebbero essere tentati dal seguire la strada britannica magari non uscendo dall'Unione Europea ma chiedendo delle eccezioni sempre maggiori alle politiche europee come è stato fatto dalla Gran Bretagna in passato e allo stesso tempo gli Stati terzi con cui ha che fare l'Unione Europea potrebbero esigere lo stesso livello di relazioni che l'Unione Europea sta instaurando con la Gran Bretagna insomma queste sono tutte ripercussioni che vedremo nei prossimi anni però sicuramente quello che la Brexit ha reso evidente è che da parte dell'Unione Europea bisogna cominciare ad essere un po' più duri sulle regole della membership e questo è stato fatto durante i negoziati per la Brexit cioè far capire che c'è una differenza netta tra chi è membro e chi non è membro dell'Unione Europea ma che poi all'interno dell'Unione Europea si possono trovare dei meccanismi di flessibilità ovviamente si può andare fino a un certo punto con la flessibilità e con la differenziazione prima citavamo il caso dello Stato di diritto dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ecco quelle sono linee rosse invalicabili su cui l'Unione Europea non può tollerare alcun tipo di eccezione questo perché non parliamo di differenziazioni che ha a che fare con le politiche come può essere il caso Schengen o come può essere il caso dell'Unione Economica Monetaria e dell'Eurozona lì parliamo di elementi sistemici su cui si basa il progetto europeo e che hanno a che fare con i valori fondamentali che noi ritroviamo nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea e per difendere i quali l'Unione Europea ha messo in piedi tutta una serie di meccanismi adesso è stato già ricordato oltre all'articolo 7 del Trattato che permette di sospendere alcuni diritti per gli stati membri che non rispettano i diritti fondamentali e che è di difficile attuazione perché serve l'unanimità abbiamo un nuovo meccanismo che lega il rispetto di questi diritti al bilancio comunitario e quindi è possibile anche sanzionare in maniera diretta quegli stati membri che vanno troppo in là il caso di Polonia e Ungheria è emblematico perché si è arrivati addirittura a mettere in discussione la preminenza del diritto comunitario rispetto a quello degli stati membri con l'iniziativa della Corte Costituzionale Polacca e si è messa in discussione uno dei principi fondamentali lo stato di diritto su cui è basato l'Unione Europea quindi diciamo che la differenziazione va bene se serve ad accomodare una serie di interessi all'interno dell'Unione Europea ma ovviamente ci sono dei limiti invalicabili che noi dobbiamo garantire e che non vanno superati ora come costruirla per il futuro questo magari ne parleremo al secondo giro quello che va tenuto presente è che l'obiettivo di questa flessibilità deve essere comunque quello di garantire l'Unione a 27 e quindi lo spirito dei trattati che parlano di una ever closer union cioè un'unione sempre più stretta tra gli stati europei ma allo stesso tempo permettere a quegli stati membri che vogliono e che possono andare più avanti nel processo di integrazione di farlo e parliamo del settore della migrazione parliamo del settore della difesa parliamo del settore del cambiamento climatico e così via quindi poi magari Lorenzo approfondiamo sul futuro ti ringrazio ti ringrazio Nicoletta ora è il turno dell'onorevole Tiziana Bechin che ci sente io non la vedo mi sento bene ecco qua perfetto allora tocca a lei che è protagonista di questo cambiamento in Parlamento un Parlamento che abbiamo visto dove stanno succedendo anche molte cose in questi due anni sono cambiate cambiano continuamente i numeri i gruppi se vogliono nascere nuovi gruppi a destra ci sono sorprese anche per la presidenza del Parlamento europeo il forte candidato popolare si è ritirato cosa è successo in Parlamento cosa sta succedendo lì tra voi che siete appunto come è stato ricordato i rappresentanti direttamente scelti dai cittadini la connessione è molto scarsa non riesco a sentire praticamente nulla mi dispiace sono i potenti mezzi del Parlamento europeo vedo tutto bloccato adesso la sento ecco no volevo chiederle appunto come avete visto da dentro al Parlamento europeo questi due anni un Parlamento che è un po' meno statico di come era negli anni passati dove i gruppi sono un po' più fluidi i rapporti tra i partiti di maggioranza sono cambiati c'è stata una sorpresa del il candidato forte diciamo dei popolari alla presidenza per succedere a Sassoli si è ritirato Sassoli ha detto che la presidenza rispetto a un socialista ci sono pare che sia fallito ma insomma nei gruppi della destra sembra si possono formare nuove maggioranze nuove maggioranze scusate nuovi gruppi questi due anni hanno portato qualcosa di importante nel Parlamento appunto che è l'istituzione come si diceva che rappresenta direttamente i cittadini e quindi forse molti cambiamenti sociali voi siete riusciti a percepirli intanto ringrazio intanto ringrazio per l'invito è un onore per me rappresentare la mia delegazione in una cornice così prestigiosa saluto i miei colleghi oratori soprattutto saluto gli ospiti in particolare i ragazzi del liceo sì sono stati due anni molto particolari sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista anche del funzionamento stesso del Parlamento europeo che ha visto oltre a appunto una questione politica nuova la mia è un'esperienza limitata sono al secondo mandato quindi avevo già avuto occasione di vivere nel mandato precedente la costituzione del cosiddetto pacchetto con cui si inizia una legislatura in cui si nominano appunto le cariche apicali con degli accordi e in questo caso già la diciamo la legislatura dal 2019 è partita in modo non così semplice non così fluido ma si è riuscita a costituire la cosiddetta maggioranza Ursula che ha portato poi all'elezione della Presidente von der Leyen grazie anche devo dire a supporto della mia delegazione e sono stati due anni poi gestiti in un modo molto particolare che ha visto cambiare anche a livello istituzionale rispetto alle vicende ben note della pandemia che hanno poi avuto un impatto su tutta la società e su tutto i funzionamenti delle varie istituzioni diciamo noi siamo stati un po' i precursori di quello che è lo smart voting e anche lo smart voting perché per la prima volta abbiamo potuto continuare i lavori parlamentari senza interruzioni grazie anche a procedure di consultazioni elettroniche non è una cosa scontata sappiamo che è stato molto complicato ripetere la stessa esperienza nei vari parlamenti nazionali per quel che riguarda la fluidità io credo che si rispecchia un po' quello che è l'andamento politico nei vari stati membri quindi ci sono sicuramente delle polarizzazioni e delle necessità di trovare delle nuove maggioranze che riportano forse a uno schema anche politico che sembrava abbandonato e che sì effettivamente ha visto diversi cambiamenti insomma la fuoriuscita del partito di Fides quindi di Orban dai popolari è sicuramente stata una notizia quello che succederà in realtà lo si stabilirà nel corso delle prossime settimane non è ancora certa la creazione di questo gruppo le maggiori dimensioni che comprende appunto o che vorrebbe comprendere le destre poi i lavori al Parlamento Europeo lo dico soprattutto a beneficio dei giovani che ci stanno ascoltando sicuramente molto informati ma tanto per dare per rafforzare le conoscenze le tecniche su quella che è la modalità politica all'interno del Parlamento Europeo che come giustamente veniva ricordato in precedenza è l'unica istituzione dell'Unione Europea che viene democraticamente eletta dai propri cittadini in molti Stati membri non tutti ma per esempio in Italia anche direttamente per quel che riguarda la preferenza sul candidato prescelto è un lavoro un po' diverso rispetto ai Parlamenti nazionali dove chiaramente oltre al fatto che il Parlamento non ha l'iniziativa legislativa la grossa mancanza della Governanza Europea che chiaramente anche io sarei per rinnovare e per modificare ha necessità di trovare delle maggioranze trasversali che non sono sempre scontate tra i vari blocchi delle maggioranze appunto che si sono formate durante all'inizio appunto della legislatura e richiede su vari argomenti appunto una convergenza tra nazioni differenti tra famiglie politiche differenti quindi un lavoro di mediazione di concertazione e devo dire anche di dibattito molto molto spinto oggi abbiamo assistito appunto a grandi novità nelle modalità operative e alcuni blocchi delle istituzioni come giustamente venivano ricordati ci riportano alla luce la questione appunto della governance europea e di come vai passare eventuali difficoltà però insomma non vorrei entrare in altre o ripetere cose che sono state già già dette dai miei colleghi è chiaro che comunque se noi oggi dovessimo fare un punto della situazione ormai più di dieci anni dall'ultima riforma dei trattati è chiaro che diventa fondamentale chiedersi se oggi l'Unione sia ben equipaggiata e pronta ad affrontare le sfide del domani siamo stati forse molto riesilienti farò la camera di moda forse non si dovrebbe nemmeno più usare ad affrontare le sfide attuali è stato dimostrato nella crisi pandemica che una maggiore integrazione più Europa appunto funziona meglio rispetto a singoli perché nonostante le incertezze iniziali la campagna di apposto congiunto dei vaccini è stata un successo che ha avuto poi come conseguenza la copertura capillare della popolazione mesi prima di molti altri paesi sviluppati penso all'Australia o penso al Giappone il recovery fund che è stato menzionato prima è un esempio di solidarietà economica finanziaria su larga scala come non si era mai visto prima poi è vero che allo stato attuale non sappiamo se questo livello di intesa sia strutturale o se sia stato soltanto la conseguenza di una situazione eccezionale e in quanto tale non ripetibile però appunto questa stessa consapevolezza ha sollevato appunto nuovamente le varie questioni di integrazione e delle diverse velocità di cui si parlava prima però insomma l'ambito della mia domanda era particolarmente ristretta a quelle che sono i movimenti all'interno del Parlamento europeo e quindi sì effettivamente ci sono state molte differenze però è vero che politicamente ci sono state anche molte differenze a livello di stati membri uno dei punti oggi di cui si dibatte è il rinnovo della carica del Parlamento europeo sappiamo che oggi è presieduto dal presidente Davide Sassoli un italiano cosa tra l'altro molto positiva per l'Italia e in base a quegli accordi di cui accennavo a inizio mandato ci dovrebbe essere una tornazione per per quel che riguarda il seggio da attribuire ad un esponente dei popolari che in base agli ultimi sviluppi appunto vista il passo indietro di Manfred Weber tedesco sarà Roberta Metzola di Malta ora su questo c'è ancora una discussione legata anche ad alcuni equilibri che sono cambiati a livello di parlamenti nazionali e anche ad alcune questioni legate appunto anche ad alcuni altri vertici che in realtà non avrebbero rispettato il principio della proporzionalità e della rappresentatività quindi su questo insomma vedremo come come le grandi famiglie politiche e se troveranno un accordo e l'appuntamento insomma per scoprire le carte e comprendere in che direzione si andrà nei prossimi due anni e mezzo questo midterm è la sessione di gennaio grazie adesso iniziamo un secondo giro in cui dovrete essere un po' più sintetici e vorrei dire agli studenti che loro in qualsiasi momento possono fare una domanda se avete voglia di fare domande fatele sono benvenute se qualcuno ce n'è una già pronta adesso può farla adesso a questi panelist se no potete farla dopo potete rifare come sentitevi i padroni della scena se però non c'è nessuno vado avanti io e vorrei ricominciare il giro ricordandovi che sono le 10.27 le 10.45 dobbiamo finire quindi abbiamo un po' più di 17-18 minuti vorrei chiedere a Nicola una cosa Nicoletta ha parlato appunto di questa cosa che viene detta tecnicamente integrazione differenziata Europa qual è il ruolo dei grandi paesi in questo lavoro perché i grandi paesi possono avere la tentazione in uno degli studi che è stato fatto da queste due idee c'è proprio il fatto che per esempio in politica estera alcuni paesi si mettono d'accordo loro su un tema specifico e poi gli altri vanno a seguire per motivi più diversi perché magari ad altri quel tema non è così interessante per altri come per i grandi paesi hanno certamente un ruolo di trazione ma rischiano di soffocare tu hai appena detto prima che sì andiamo avanti tutti insieme però magari un paese un po' più piccolino può rischiare di essere schiacciato sotto anche l'esuberanza che può avere un nuovo un grande paese grazie Lorenzo no è una domanda complessa e non è facile rispondere perché sì i grandi paesi soprattutto quei tre paesi cofondatori dell'Unione Europea Francia Italia Germania hanno un ruolo particolare perché sono loro in un certo senso soprattutto quando si pensa all'asse franco di disco sempre sono i motori dell'integrazione europea facendo le varie proposte quest'anno stiamo celebrando 40 anni della proposta Gensher Colombo che fu l'inizio dell'atto europeo unico nell'81 dunque secondo me quello che è importantissimo che usiamo tutti insieme la possibilità e la piattaforma della conferenza sul futuro dell'Unione Europea perché si tratta davvero di un momento di non dico rifondazione ma di ripensamento del concetto europeo in un senso più 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 federalista come lo spiega anche il trattato di coalizione del futuro governo tedesco io penso la cosa più importante è in questo momento non pensare in categorie chi sono i paesi grandi chi sono i più piccoli ma piuttosto in che maniera comunichiamo l'Europa ai nostri co-cittadini io sono dell'avviso che tutti i governi sia dei paesi grandi sia di quelli più piccoli devono spiegare meglio in futuro ai loro cittadini per quale motivo conviene investire maggiormente in Europa per superare anche questi sentimenti anche questi pregiudizi di un'Europa lontana astratta perché l'Europa secondo me non è un concetto astratto lontano l'Europa siamo tutti noi e l'Europa ha funzionato bene durante la pandemia e ci ha fatto capire che ogni paese singolo è troppo piccolo per superare certe sfide dunque ci dobbiamo dobbiamo metterci insieme anche se costa e proprio perché costa il compito di tutti noi di tutti i governi di paesi singoli grandi piccoli medi è di spiegare bene i vantaggi che possiamo trarre tutti da questo progetto europeo dunque ultima frase magari il trattato del Quirinale firmato da Francia e Italia che poi ha innescato anche un dibattito qui in Italia ma per quale motivo non chiudiamo il triangolo con la Germania firmando anche un trattato tra Italia e Germania magari questo impulso che viene dal trattato del Quirinale possa servire a innescare anche questo dibattito sui grandi vantaggi che abbiamo tutti noi da questo progetto europeo perché questo trattato del Quirinale secondo me è uno spirito fortemente europeista grazie grazie sì mi fa piacere che non siete arrabbiati per il trattato del Quirinale ci mancherebbe altro allora Luca Visentini adesso aspettiamo che riparte il collegamento ci vuole qualche qualche istante c'è ancora Visentini o è crollato? io sono qui ah ecco qua perfetto no volevo chiedere appunto sempre in brevità prendendo esempio dal collega tedesco i giovani sono un grande tema dell'Europa adesso in cui anche questo panel questa conferenza sul futuro dell'Europa ha ritagliato una quota dedicata proprio ai giovani che devono partecipare alla conferenza sul futuro dell'Europa e i sindacati spesso vengono accusati di occuparsi di chi già è occupato e poco di chi dovrà essere occupato in futuro ecco nel come come pensate che possa essere messo diciamo un po' più in primo perché se ne parla moltissimo adesso non se ne parlava tanto dei giovani nel passato che il futuro dell'Europa è loro ora sta diventando un tema forte il sindacato come lo vede come lo declina il sindacato questo tema ma noi facciamo tutto quello che possiamo e siamo molto attivi in questo senso per dimostrare che questo è un falso mito negativo cioè che i sindacati non si occupano dei giovani e stiamo lavorando da molto tempo non è una cosa nuova o recente su due aree fondamentali la prima è di garantire un sistema di istruzione pubblica di qualità per tutti i giovani che consenta loro di formarsi in generale come cittadini prima di tutto ma anche di essere pronti ad entrare in maniera adeguata con protezioni di qualità nel mondo del lavoro e abbiamo realizzato a livello europeo così come in moltissimi paesi accordi importanti insieme alle istituzioni e agli imprenditori per garantire che tutto questo possa effettivamente realizzarsi e si sta discutendo anche recentemente di opzioni aggiuntive di mobilità degli studenti e dei giovani all'interno dell'Unione Europea appunto per incrementare ulteriormente le opportunità di formazione e di educazione l'altro grande elemento è il lavoro e la protezione non solo l'accesso ma soprattutto la protezione sul lavoro per i giovani perché non possiamo nasconderci che negli ultimi decenni o addirittura di più ma diciamo negli ultimi decenni i giovani molto spesso hanno ricevuto opportunità di lavoro non tutelate precarie senza riconoscimento delle loro qualità delle loro competenze loro sono quelli che hanno sofferto di più durante la pandemia ma anche prima della pandemia purtroppo da questo punto di vista quindi il tema dell'estensione dei diritti e delle protezioni ai giovani è veramente fondamentale e non può essere diciamo declinato nel senso che bisogna ridurre i diritti agli altri per dare un po' di diritti ai giovani il problema è che ai giovani devono essere dati gli stessi diritti e le stesse protezioni che sono state conquistate in decenni di lotte per gli altri lavoratori e lavoratrici c'è poi un tema fondamentale che è anche quello della partecipazione dei giovani noi stiamo cercando da questo punto di vista di fare la nostra parte la settimana scorsa nella nostra conferenza di metà mandato della Confederazione Europea dei Sindacati abbiamo votato con il 75% di maggioranza l'introduzione di quote per l'accesso dei giovani ai livelli dirigenziali del sindacato magari è una piccola cosa però abbiamo voluto dimostrare che noi almeno ci proviamo grazie apprezzo anche la brevità non era una domanda di accusa al sindacato ho lavorato per tanti anni nel sindacato anche io quindi volevo sentire queste cose che ci hai detto adesso torniamo adesso qui in studio come dicono in televisione con Nicoletta Pirozzi che ha introdotto questo tema della flessibilità spiegando su alcune cose la flessibilità non ci può essere sui diritti fondamentali che devono essere quelli ha spiegato quali sono i nuovi strumenti diciamo di cui si è dotata alcuni li aveva alcuni li sta adottando adesso però volevo chiedere cioè la flessibilità alcuni diritti sono ma in politica estera i rapporti che i paesi dell'Unione Europea possono avere con altri paesi terzi lì qual è fino a che punto si può fare adesso non vorrei non è non riguarda lo prendo solo come esempio ma questa cosa di Nord Stream per esempio un'iniziativa di un paese che si crea una sua relazione di fatto con un paese terzo senza convolgere gli altri cioè fino a dove si può arrivare in una cosa del genere grazie Lorenzo sì allora questo diciamo è una delle questioni più delicate da trattare quando appunto immaginiamo l'Europa del futuro è la direzione che deve prendere tra diciamo una parte la volontà di procedere di nuovo a 27 di mantenere l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa come obiettivo di lungo termine almeno per quegli Stati quei governi e quelle forze politiche europeiste che ancora sono la maggioranza in Europa e dall'altra la tendenza che abbiamo visto in questi anni di un'Europa che ha visto un grosso protagonismo delle istituzioni intergovernative noi abbiamo visto anche nel corso della pandemia ma anche nella gestione delle crisi esterne all'Unione Europea qual è il ruolo che ha rivestito il Consiglio Europeo e quindi i leader dei diversi governi rispetto al ruolo in molti casi marginale o secondario delle altre istituzioni sovranazionali tra cui la Commissione Europea e il Parlamento Europeo questa è una realtà di cui noi dobbiamo tenere conto in particolare in politica estera avevo già citato quegli esempi in cui due tre o un gruppo ristretto di Stati membri prendono in mano un'iniziativa a nome dell'Europa ci sono anche altri esempi più problematici ad esempio il progetto Nord Stream 2 della Germania è accolto in maniera meno positiva da altri Stati membri dell'Unione Europea perché è considerato rispondere ad interessi nazionali e non a un interesse europeo anche a diciamo contrastare un'autocrazia al di fuori dell'Europa che è stata accusata anche di interferenze esterne nelle nostre democrazie e che in generale mette a dura prova la nostra politica estera perché in alcuni casi è stata molto aggressiva nel vicinato europeo dalla Georgia all'Ucraina con violazioni dei diritti umani e quello che consegue altro esempio per esempio è la posizione francese per quanto riguarda la regione del Sahel e della Libia che in molti casi si è distanziata dalla posizione presa dagli Stati membri dell'Unione Europea per una risoluzione pacifica e per un'azione coordinata di lotta alla criminalità al terrorismo e anche per la risoluzione del conflitto libico allora qui diciamo che ci sono dei paletti che vanno messi nel senso che l'iniziativa di uno Stato membro di un gruppo di Stati membri può essere positiva per far uscire l'Unione Europea dalla inazione quindi garantire un protagonismo europeo in politica estera e in questi scenari di crisi ma al tempo stesso ci sono una serie di condizioni che vanno rispettate sicuramente una di queste è quella di garantire un coordinamento molto stretto con le istituzioni europee cioè anche quando questi paesi vanno avanti con iniziative autonome di politica estera va sempre garantito il richiamo ai valori fondamentali dell'Unione Europea per quanto possibile agli interessi condivisi e cercare di coinvolgere il più possibile le istituzioni questo è stato fatto in passato ad esempio cito di nuovo il caso dell'Iran in cui è stato coinvolto in maniera molto attiva l'altro rappresentante dell'Unione Europea in altri casi il presidente del Consiglio Europeo la presidente della Commissione che ha lanciato quest'idea di Commissione Geopolitica sono stati coinvolti più direttamente questo è una caratteristica fondamentale l'altro aspetto fondamentale che magari vale meno in politica estera ma deve valere per tutti gli aspetti fondamentali della vita dell'Unione Europea è quello di garantire una legittimità democratica delle scelte quindi soprattutto fare in modo che i cittadini siano informati di quello che l'Unione Europea fa nei confronti del nostro vicinato sulla migrazione sul cambiamento climatico e così via e che partecipino alle scelte dell'Europa ora come fare noi abbiamo un sistema imperfetto un Parlamento europeo che ha poteri limitati e questo rischia di diventare ancora più complesso in un'Europa più differenziata perché questa diventa un'Europa più complessa quindi bisogna trovare dei meccanismi aggiuntivi per garantire la partecipazione dei cittadini senz'altro la conferenza sul futuro dell'Europa può essere un modello che però va rafforzato nel futuro per non renderlo una scatola vuota e soprattutto va reso un meccanismo permanente cioè la mobilitazione dei cittadini che abbiamo appena cominciato a fare con la conferenza sul futuro dell'Europa deve diventare la norma con meccanismi adeguati per il futuro perché sono i cittadini in prima persona che devono dirci dove deve andare l'Unione Europea attraverso quali modalità grazie allora mi piace Nicoletta ha messo in evidenza un tema che è stato già tirato fuori da Wagner da Visentini la partecipazione rafforzare il ruolo dei cittadini mantenere questa questa relazione che si sta realizzando con la conferenza io vorrei far chiudere in quattro minuti netti Tiziana Begin questo dibattito proprio su questo tema non so se ci sente ci sente? Sì eccoci allora volevo che lei chiudesse adesso in quattro minuti netti su questo ruolo dei cittadini adesso c'è la conferenza sul futuro dell'Europa che cosa ci aspettiamo e che cosa vogliamo imparare da questa conferenza per il futuro mi pare che lei anche si sia si sia espressa per un maggior ruolo dei cittadini un maggior coinvolgimento un maggior informazione ecco come possiamo fare? che la nostra forza politica sia una forza che cerca di coinvolgere sempre più possibile i cittadini non è non è un segreto e credo che anche i risultati elettorali degli ultimi tempi che hanno visto ahimè un grande un grande unico vincitore che è stato l'astensionismo lo indichi come una priorità quella di riuscire ad avvicinare maggiormente i cittadini alle istituzioni e questo lo si può fare dando loro gli strumenti chiaramente ma anche rendendo concreta effettiva la partecipazione ai processi ci sono degli strumenti forse non molto conosciuti ma ci sono non sono evidentemente abbastanza la conferenza sul futuro dell'Europa già citata più e più volte è un'occasione è chiaro che questo dipenderà anche da quello che sarà l'esito di questo esercizio che appunto se non ha poi come risultato finale quello di riuscire ad avere poi anche una modifica reale di quelle che sono di quella che è l'architettura istituzionale di quelli che sono alcuni punti che sono considerati rinunciabili chiaramente diventerebbe un esercizio fine a se stesso quindi noi credo che oggi non ce lo possiamo permettere ma dobbiamo assolutamente arrivare a dei risultati più concreti per i cittadini quindi molti sono gli strumenti noi sappiamo diverse volte la commissione stessa fa delle valutazioni e delle richieste dirette ai cittadini su diverse posizioni ma non sempre poi le decisioni che sono prese vengono tenute in considerazione soprattutto nella scorsa legislatura ricordo esempi e sono aneddoti ma che rendono piuttosto bene l'idea di consultazioni pubbliche i cui risultati poi sono stati completamente stravolti con anche affermazioni a volte non molto diplomatiche come ricordo una su tutte io non rispondo ai cittadini rispondo agli stati membri come se gli stati non fossero cittadini o rappresentazione dei cittadini quindi ecco io credo che in questo caso debba essere fatto uno sforzo maggiore di informazione e di tenuta in considerazione anche di quelle che sono poi le esigenze concrete poi insomma potremmo parlare molto mi ha chiesto quattro minuti quindi sono sono tanti gli argomenti da trattare concluderei dicendo questo io credo che non si possa pensare di avanzare e di arrivare a risultati positivi se non si considera di farlo in modo compatto questo significa non soltanto in modo compatto tra i 27 stati membri ma tra tutte le forze e l'espressione che lo compongono quindi tutti gli stakeholders tutti i cittadini e questo ha a che fare anche con la nostra credibilità in campo internazionale io mi occupo di commercio che è una competenza esclusiva lo ricordo e vedo ogni giorno che per l'Unione negoziare in modo compatto con un'unica voce nei fori internazionali è un vero vantaggio quindi in tante questioni che hanno rilevanza esterna si è parlato prima di politica estera ma anche altre sfide come quelle ambientali dove l'Europa deve guidare il mondo con l'esempio si deve procedere tutti insieme e tutti insieme significa i 27 stati membri come ricordavo prima ma soprattutto gli interessi di tutti i cittadini che questi stati compongono lei è stata incredibilmente brava non me l'aspettavo da un parlamentare di rispettare i tempi perfettamente allora ringrazio tutti questo panel che mi sono molto divertito da moderare e mi piacerebbe continuasse ancora per un paio d'ore almeno ma non si può quindi ringrazio Niklas Wagner capo dell'ufficio politico della ambasciata tedesca in Italia Nicoletta Pirozzi direttore degli studi europei dell'OIAI l'Istituto Affari Internazionali Luca Visentini segretario generale dell'ETUC che è la Confederazione Europea dei Sindacati e Tiziana Beghina appunto parlamentare europea capo delegazione del Movimento 5 Stelle ora abbiamo abbiamo 10 minuti di pausa a caffè dove i ragazzi penso si fionderanno perché forse ci sono anche dei cornetti e ci vediamo fra poco grazie 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 a tutti.